Cari elettricisti, vi ricordo che fino alla mezzanotte di giovedì 30 novembre potete acquistare il webinar di Alessio Piamonti al prezzo di 22 euro 22 euro più IVA inserendo lo sconto, il codice sconto Felicespd dentro la casellina durante l'acquisto la casellina dedicata ai coupon sconto quindi 22 euro praticamente una pizza per un webinar da 59 euro insomma, fa bella lecce